il metodo alla roulette che mi ha permesso di fare mille euro in circa tre ore attenzione questo video non vuole essere un invito al gioco d'azzardo non è mia intenzione promuovere questo genere di metodo di guadagno anche perché si sa ma comunque lo ripeto giocare alla roulette puntare sul gioco d'azzardo per riuscire a guadagnare purtroppo non è sempre una bella idea il gioco d'azzardo crea dipendenza quindi mi raccomando guarda questo video con estrema consapevolezza perché quello che ti andrò a mostrare è un qualcosa di bello ma che poi si rivelerà per un qualcosa di brutto sono riuscito a guadagnare mille euro in tre ore vi parlo di qualche anno fa il mio percorso nel mondo online è stato sempre a 360 gradi non mi sono fatto mai mancare niente e quindi ho provato veramente ogni metodo di guadagno restando sempre nei limiti del legale quello che mi è capitato di provare sono proprio i metodi per guadagnare alle roulette girando in quest'ultimo periodo un po su youtube cercando sempre nuove cose da conoscere da testare mi sono imbattuto di nuovo in video dove mostrano metodi di guadagno delle roulette strategie che ti permettono di fare soldi in un'ora due ore ma anche cinque minuti e parliamo di belle cifre e che ovviamente fanno gola a chi vuole riuscire a guadagnare qualcosa online con questo video voglio andare a sensibilizzare tutte le persone che guardano questi video e dove vedono che ci sono persone che propongono questi metodi di guadagno come se fossero la salvezza della vita perché fidatevi ci sono queste persone andiamo a fare questa nuova sessione con il mio metodo unico al mondo che mi sta facendo guadagnare tanto signori tanto 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 mi ha cambiato la vita per quelli che lo hanno acquistato come vi dicevo mi è capitato di vedere più video riguardo questi metodi e quindi poi mi sono ritrovato a provare una strategia funziona in questo modo andavo a puntare su ogni sestina lasciando poi sei numeri scoperti per chi non sa come funziona la roulette in pratica devi semplicemente indovinare qual è il numero che esce andando a puntare sul numero oppure indovinare se esce un numero rosso oppure un numero nero e quindi puoi fare le tue puntate quello che io andavo a fare era puntare su ogni sestina e lasciare poi sei numeri scoperti su 36 numeri io avevo 30 numeri puntati quindi mi ritrovavo a puntare ad esempio cinque euro e se guadagnavo guadagnavo un euro nella maggior parte dei casi questo era possibile riuscivo a guadagnare un euro ogni cinque secondi ma poi veniva la cosa un po più complicata perché arrivava magari quel momento in cui quei sei numeri dovevano comunque presentarsi nonostante io avessi magari l'ottanta per cento di probabilità di ritrovarmi a vincere cosa accadeva accadeva che nel momento in cui usciva un numero che io non avevo coperto quindi uno di quei sei numeri io dovevo andare a fare un'assicurazione quindi dovevo cercare di recuperare quello che avevo perso per poi ricominciare a fare la stessa cosa ed è proprio quella la fregatura perché si va ad utilizzare un sistema martingala il martingala è quel sistema che ti permette di recuperare magari una perdita che tu hai fatto andando a raddoppiare sempre di più quella che è la tua puntata ok per poi continuare il gioco per come diciamo si sta facendo quindi nel momento in cui capitava quel numero che non avevo puntato dovevo fare così vedevo l'ultimo numero che era uscito ad esempio era 30 rosso oppure 33 nero io dovevo puntare sul colore opposto quindi se avevo puntato 5 euro le avevo persi dovevo puntare 5 euro ad esempio sul nero sul colore opposto a quello che era uscito se continuava ad uscire il colore non puntato da me magari se avevo puntato nero ed è uscito di nuovo rosso io devo puntare poi 10 euro di nuovo sul nero finché poi il nero non usciva e questo mi ha portato mi ha portato a guadagnare con tutto questo metodo 1000 euro partendo da 50 60 euro ho guadagnato 1000 euro in tre ore facendo sempre solo questo metodo arrivai al punto che chiamai mio padre mio fratello di suo ho trovato il metodo per fare soldi perché erano tre ore che io stavo davanti a quella roulette e riuscivo a guadagnare tutti quei soldi e stiamo parlando di cifre assurde ragazzi fino a che mio padre incredulo come lo stato sempre diceva ma la fregatura ci deve stare e infatti c'era perché quando io andavo ad utilizzare quell'assicurazione quindi il fatto di raddoppiare per recuperare la puntata precedente io mi sono ritrovato a puntare ad esempio sul colore rosso finché non usciva e a me mi è capitato che per 15 16 volte di fila è uscito sempre il colore nero perché in quel caso la probabilità che può uscire rosso o può uscire nero è del 50 e 50 e quindi è successo che io ho perso tutti i 1000 euro solo per recuperare quei 5 euro persi vi sto raccontando questa mia esperienza perché come già vi ho detto all'inizio video mi sono imbattuto ultimamente di nuovo in questi video dove propongono questi metodi no infallibili e anche nella mia community abbiamo comunque analizzato un po questi metodi abbiamo testato determinate cose per vedere un po le criticità e per fare comunque un esame diciamo consapevole di tutti quelli che sono questi metodi e siamo arrivati alla conclusione la fregatura maggiore sul gioco d'azzardo sulla roulette quando ti dico nel metodo di guadagno semplicemente è nella psicologia purtroppo noi possiamo avere la strategia perché veramente io mi posso mettere lì 5 minuti e riesco a fare 10 euro 20 euro in 5 minuti è fattibile non dico che non è fattibile ma la cosa pericolosissima è quella di non sapersi fermare il gioco d'azzardo è stato creato a tavolino non è stato creato così per permettere a noi di guadagnare quindi come dovrebbe essere utilizzato secondo me puoi divertirti non investire non cercare un metodo di guadagno che ti faccia vivere la tua vita serenamente no il gioco d'azzardo la roulette qualsiasi tipo di gioco di questo genere è fatto solo per divertimento vai ci metti quello che ci puoi mettere ti diverti ti fermi e te ne vai con la vincita si riesce ma questo non accadrà mai perché nel momento in cui tu vedi che lì si guadagna e tu stai un'ora lì vicino che ci hai fatto 100 euro per due ore ci fai 200 300 euro la tua psicologia sarà debole e non sarai capace di fermarti purtroppo è proprio quella la fregatura perché io attualmente mi ritrovo con un conto di 280 euro più o meno sono partito con 200 questi qua li ho fatti in un paio di giocati due tre giorni ok mettendomi 15 minuti al giorno perché stavamo testando questa cosa nella community io ho avuto la mia visione il mio parere gli altri della community anche loro hanno esaminato hanno analizzato comunque tutto quanto e ci siamo confrontati e siamo arrivati ad una conclusione che è questa il metodo esiste nel senso che ti fa guadagnare nel breve termine quindi io vado ad utilizzare quel metodo in quel momento mi permette pure di guadagnare perché quello che poi mi farà continuare e non mi farà fermare più è come se fosse un'esca per dire ecco qua vedi come si guadagna tu da quel gioco non esci più non arriverai mai a prelevare quei soldi se vuoi battere la roulette e vuoi battere il gioco d'azzardo nel momento in cui punti 1 e prendi 2 spegni tutto e non giocare più in quel momento hai vinto ma se vuoi trovare un metodo di guadagno sulla roulette è un qualcosa sempre del genere a lungo termine stai ben sicuro che perderai al 100% tutti i tuoi soldi è così ragazzi non c'è niente da fare non credete a chi vedete nei video che vi dice che tengono il metodo e uno l'ho trovato che mi fa pure un po pene penso che ci avrà 50 60 anni che dice di rendere il suo metodo a 200 euro io l'ho anche contattato e per capire un po cosa diceva e lui nei suoi video fa sognare le persone il mio metodo ecco qua 200 euro vedo il mio software e vi cambierà la vita e io devo dire la verità psicologicamente vi va a colpire perché vi fa sognare vi fa credere un qualcosa che non è quindi fate molta attenzione questo video è stato realizzato per puro scopo informativo e per sensibilizzare tutte le persone e per metterle in guardia da tutte queste cose che esistono sul web questi metodi delle roulette che vi fanno passare come se fossero la soluzione alla povertà poco a poco vi tirano dentro questo gioco e non vi fanno capire più niente non riuscite a ragionare non siete più lucidi quindi automaticamente vi ritrovate in una gabbia dove non siete capici più di uscire perché se vedete che guadagnate non vi fermate continuate 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 non avrete mai la forza di fermarvi e di dire basta mi sono preso il guadagno e io la roulette sto gioco non lo voglio vedere più perché il giorno dopo vi sveglierete direte ma ci provo di nuovo la fregatura è proprio quella fidatevi ve lo sto dicendo perché io l'ho provato sulla mia pelle e ultimamente stavamo testando quest'altro metodo con un software possiamo dire che io mi ci metto prendo 3 euro prendo 5 euro 10 euro mi devo fermare e devo togliere tutto da mezzo cancello proprio dal sito dove ho giocato alla roulette questo è il metodo migliore per divertirsi perché non si parla di investire e per guadagnare qualcosina se ti va bene sempre se ti va bene detto questo successivamente vi andrò a mostrare un altro metodo che sarebbe quello là che abbiamo provato con la community dove vi faccio vedere anche lì la criticità dove sta perché ragazzi volere o volare purtroppo c'è sempre la pecca ok vi ho raccontato questa mia esperienza che risale un po di anni fa e avendo fatto questa esperienza mi andava di condividerla con voi per rendervi partecipi e consapevoli di un qualcosa che io ho vissuto e magari posso aiutare voi se vi ritrovate comunque a guardare questo genere di video se vuoi fare un salto nella community sei sempre benvenuto ti aspetto ti lascio qui sotto il link in descrizione puoi unirti a noi e cominciare a conoscere i reali metodi di guadagno e questa non è una cazzata perché ci sono i fatti che dimostrano quello che sto dicendo ci sono tante persone che possono testimoniare quest'ultimo mese siamo già riusciti nel primo mese della community già a portare un guadagno passivo a casa e questa è la cosa più importante perché è un qualcosa che è stato fatto con intelligenza e con mentalità mettendo da parte tutte le cazzate che abbiamo sempre trattato ok piattaforma e quant'altro parliamo di cose serie ad esempio le opzioni che vi ho fatta una testa così perché sono uno strumento realmente efficace senza sottovalutare ovviamente ci vuole sempre studio e impegno ok nella community studiamo e facciamo tutto quanto insieme in più sempre nella community sto realizzando dei video corsi da zero per tutti i membri in modo gratis non vi dico altro vi lascio solo il link qui sotto in descrizione detto questo spero che questo video vi sia stato utile vi abbia fatto aprire un po gli occhi su questo mondo delle roulette perché magari è facile cadere in queste trappole noi ci vediamo nel prossimo video dove magari vi mostrerò altre cose ciao ragazzi